Grazie a tutti Siamo all'ombra? Sì Ma c'è pranzo qua? Io? Poi non sono prete? Sì, sei buono Bene fattori, grazie! 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 Grazie! Voglio ringraziare tutti i benefattori dell'Italia Il popolo nei villaggi del Benin Vi ringrazio e vi benedicono Grazie per il vostro aiuto Grazie! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie bene fattori Grazie bene fattori Grazie bene fattori Grazie bene fattori Grazie a tutti 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 è vero che non ci sono i bambini soli ma anche per la gente che vivono a torno a noi possiamo venire a prendere acqua qui e come l'eau c'è la vita noi siamo molto felici di avere questa l'eau e noi pregiamo per loro e per tutti gli accompagnati in questa l'euvre di generosità l'acqua è la vita e questa l'acqua ci darà tanta vita perché diciamo grazie a tutti e che diciamo la benedizione del Signore di Sidiboi e su tutti quassi amici che aiuta noi ogni volta che prenderemo l'acqua i nostri pensieri vanno in Italia ai cari amici che aiutano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Grazie. Grazie per il tuo aiuto. Abbiamo oggi questa bella maternità perché ci ha dato tutto con il cuore e oggi tutti siamo contenti, siamo felici. I bambini, i ragazzi, le mamme, i papà, gli uomini, tutti, tutti il villaggio, la gente è felice e vi diamo grazie, grazie di cuore, grazie e il Signore vi benedica nel vostro lavoro e pensiamo anche al vostro marito che soffre, preghiamo per lui, grazie, grazie di cuore. Oggi siamo qui a Dagbarau per l'inaugurazione dell'ospedale per la maternità. Vogliamo ringraziare il sindaco di Flumeri, Angelo Lanzo e tutta l'amministrazione comunale per averci donati i pannelli fotovoltaici. Grazie, grazie carissimi, grazie amici per il vostro aiuto. Grazie di cuore, il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.